Valuto i vostri disegni parte 12 Iniziamo subito con il primo disegno davvero complicato da giudicare perché nel suo complesso, nel suo stile, è davvero molto carino Attenzione al baffo perché dovrebbe andare in questa direzione, come questo e le fiamme non mi fanno proprio impazzire, avrei dato una sfumatura di giallo all'interno Voto 7,5 Questo disegno promette davvero bene, mi piace molto l'espressione degli occhi, del volto in generale Peccato che sia ancora incompleto, mancano i capelli di dietro quindi avrei fatto i capelli dietro, avrei migliorato i capelli qui, dietro la nuca e che dire, il tratto sporco mi piace essendo una guerriera però bisogna finire il disegno, per il momento voto 7 Questo disegno ha davvero un notevole impatto, mi è piaciuto molto Io darei comunque uno stacco tra il personaggio e lo sfondo Poi si vede che ti sei concentrato moltissimo sulle fiamme e direi di concentrarti anche nella saturazione del colore degli altri punti Migliora soprattutto le linee che sono un po' tremolate Mi raccomando, voto 7,5 Bravo Linee precise, proporzionato, pulito ma purtroppo si vedono tantissimo le riprese del colore soprattutto nel vestito Peccato perché sei davvero molto bravo mi piace come tiri le linee o imposti il disegno devi solo migliorare nella colore